Un nuovo inverno sta cominciando a Cortina d'Ampezzo nelle Dolomiti e incredibilmente anche in questa stagione così difficile e drammatica, nonostante la pandemia, una montagna di libri, la festa degli incontri con l'autore di Cortina d'Ampezzo c'è. Dal 2009 portiamo a Cortina da oltre 12 anni appuntamenti con autori da tutto il mondo e anche per questa stagione, da dicembre fino ad aprile, dall'inverno fino alla primavera, sarà possibile incontrare più di 30 autori per ora in digitale e poi speriamo anche in carne ed ossa nelle sale. E dunque si incomincia già il 28 di novembre, sabato 28 novembre con Carlo Rovelli, forse il più grande degli scienziati italiani viventi e sicuramente l'uomo che meglio di ogni altro comunica la scienza attraverso i suoi libri, l'ultimo Helgoland pubblicato da Adelphi. E poi il 5 di dicembre la straordinaria serata di Cortina d'Ampezzo con Skin, leader e vocalist degli scancanensi, già giudice di X Factor Italia che racconta nel suo libro, nella sua ultima autobiografia, una crescita difficile, avventurosa ma divertente nella Londra proletaria e popolare, nel confronto con la propria identità di un colore della pelle differente, di un'identità sessuale differente, di donna, insomma nell'affrontare la diversità con il sorriso e con il coraggio. E poi ancora tanti appuntamenti da quello con Massimo Lopez che ricorderà il suo teatro e la sua televisione, alle lezioni d'arte di Marco Goldin e Riccardo Falcinelli, agli appuntamenti sulla globalizzazione con Federico Fubini e sul nuovo destino del sogno americano con Antonio Monda. E poi spazio ad appuntamenti speciali come quello con Catherine Belton, già giornalista del Financial Times e autrice di un importante libro su Putin e sulle ramificazioni della Russia in Occidente. E ancora Aldo Cazzullo che ci racconterà i mondiali di sci visti dal punto di vista della storia dello sci. E poi ovviamente il suo libro su Dante. E poi ancora tanti appuntamenti nell'attualità come quello con Paolo Mieli, come quello con Gennaro San Giuliano e ancora tanti altri. Insomma una stagione di libri e di autori e di bellissime cose che si possono ancora fare insieme. Nel spirito che la cultura non si ferma e che a cortina da un pezzo, nonostante tutto, noi ancora ci siamo. E vi aspettiamo qui ovviamente. Grazie a tutti.